www.redigio.it e la storia continua il territorio busto garolfo ovvero il busto piccinino il termine latino bustum significa luogo dove si bruciavano i cadaveri crematoio in senso stretto, luogo dove il cadavere è stato bruciato in senso più lato e anche tumulo, monticello, innalzato sulle ceneri del defunto tomba, sepolcro da questa definizione, secondo l'opinione più accreditata deriverebbe il toponimo busto che è contenuto nel nome di più di una località in particolare il luogo dove sorge busto garolfo sarebbe stato originariamente un campo nel quale in epoca molto antica venivano cremati i cadaveri dei morti in guerra un'altra ipotesi attribuisce la fondazione di busto garolfo a un gruppo di longobardi di busto orsizio che dopo aver lasciato il luogo natio si sarebbero stabiliti in una zona non distante e qui avrebbero costruito nuove case al nuovo paese i coloni avrebbero dato il nome di busto parvus cioè piccolo, in onore del loro luogo d'origine a fianco del toponimo a loro caro e avrebbero aggiunto anche garolfo che era forse il nome del signore della colonia quest'ultima interpretazione non contrasta in linea di principio con l'origine latina del toponimo busto c'è da dire però che la zona di busto orsizio fu per lungo tempo occupata da antichi liguri e tuttora questa città rappresenta un centro lombardo dove più sopravvivono tracce della cultura ligure per questo motivo qualcuno ha voluto trovare nel finale del nome di busto orsizio nell'idioma locale busti un elemento accomunante con gli altri toponomi della liguria la moderna sori, ri, chiavari, sestri tanto per citarne alcune comunque busto garolfo detto popolarmente busto piccinino mantiene per vari motivi i rapporti con i centri che oggi definiamo di cultura ligure lombarda busto orsizio e dei rago della cui pieve fece parte e con cui procedette di pari passo nelle vicende storiche fino alla metà del secolo XVII e in particolare dipese insieme ad ai rago dalla famiglia dei magi e da quella degli arconati al 922 risale il primo documento ufficiale in cui è citato il nome di busto garolfo che in quell'epoca non era nulla più che un paesino più vasto e maggiormente abitato divenne nei secoli a seguire tanto da superare nettamente dai rago per numero di abitanti busto garolfo fu anche importante centro religioso venne infatti nobilitato dalla presenza dell'ordine degli umiliati stabilitisi nel XIII secolo o forse anche prima che arrivavano a disporre di ben sei case nel secolo scorso busto piccinino acquisì una certa popolarità come luogo d'origine di molte balie e si dice che anche nell'abitazione del maresciallo Radeschi avesse lavorato una nutrice proveniente da questa località www.redigio.it e la storia continua www.redigio.it 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 www.redigio.it